Non ha ricevuto risposte ufficiali da parte dell'Aggiunta regionale e dell'Assemblea sarda. La richiesta approvata ieri è formulata da Lanci Sardegna alla regione di stanziare per il prossimo triennio 60 milioni di euro per aiutare i comuni sardi in sofferenza economica a causa dei debiti fuori bilancio che derivano da sentenze esecutive per espropri attuati negli ultimi 50 anni. La mozione presentata dal sindaco di Nuoro Andrea Soddu, in qualità anche di presidente del CAL, è stata recepita dall'Assemblea dell'Anci e riunita a Ghilarza e vuole affrontare in maniera organica e definitiva una questione che per tanti anni è stata lasciata gestire i comuni in solitudine e che ora rischia di travolgerli. La situazione del comune di Nuoro è nota, con decine di milioni di debiti fuori bilancio che hanno costretto le ultime tre amministrazioni comunali barbaricine ad accendere mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, 5 milioni di interessi all'anno da sottrarre alla spesa corrente che spesso impediscono la somministrazione di servizi che vadano oltre quelli essenziali, mutui interessi che rendono impossibile una gestione armonica della cosa pubblica. Questo a prescindere dalla capacità dei singoli e del giudizio politico che si può dare alle scelte amministrative. In questi giorni, tra la maggioranza opposizione nel comune di Nuoro, sta giocando la partita politica sul bilancio di previsione 2018-2020. Le posizioni sono distanti e spesso inconciliabili. Venerdì il Consiglio Comunale di Nuoro è chiamato a varare il documento economico-finanziario appena l'arrivo del commissario. Questo in attesa che anche la Regione batta un colpo sulla questione dell'indebitamento dei comuni in sofferenza, dando risposte al grido di dolore lanciato ieri da Lanci Sardegna.